Ragazzi la stagione 2 è molto vicina e sappiamo tante cose riguardante appunto la prossima stagione Grazie a TheLicker sappiamo il tema della season, tante skin che arriveranno nel pass battaglia Delle collaborazioni che ci saranno nella prossima season, delle armi che arriveranno con la prossima stagione Sappiamo già tante tante cose Prima però di andarne a parlare iscrivetevi tutti al canale se ancora non lo avete fatto Attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici Non siamo in partita perché partiamo prima dal mio armadietto Vi ricordate questa skin? Quando uscì questa skin nella crew di Fortnite di giugno del 2021 Eravamo ancora in season 6 del capitolo 2 E con questa crew di Fortnite ci vennero regalate 3 schermate di caricamento Le andiamo a vedere immediatamente insieme, ve le faccio vedere Una è questa, vedete, cioè chiaramente si capisce quello che adesso vi dirò Anzi scusate sono, no si sono 3 o sono 4, comunque poi c'è anche questa Dopodiché c'è questa, ok? E l'ultima è questa, quindi sono 4 schermate scusate E tutte e quattro hanno una cosa in comune Il tema futuristico, vedete che ragazzi Qua c'è un robot, un'armatura, un sacco di robe tecnologiche Qua c'è una città tutta futuristica A tema anche giapponese, vedete che ci sono le scritte in giapponese Poi qua vedete là dietro, nel rift dietro c'è tutta la città Giapponese anche, è futuristica E qua possiamo vedere anche una moto volante Ok? Una moto futuristica Tutte queste cose ci vennero spoilerate al tempo Season 6 capitolo 2 Ma solo adesso sappiamo che queste cose qui le avremo nella prossima stagione E adesso ne parliamo meglio Andiamo a parlare nel video che è uscito qualche giorno fa Avevamo parlato già del tema della prossima stagione Che sappiamo essere futuristico barra giapponese Ok? Cioè sarà principalmente futuristico Poi sì, ci sarà anche qualcosa di giapponese Perché adesso ne parliamo Perché nella prossima stagione I leaker ci confermano che Ci sarà un ritorno di Aprodo Avventurato Una città storica di Fortnite Città che, se non sbaglio Arrivò in stagione 3 del capitolo 1 O stagione 2 o 3 Credo 3 però Quindi nel capitolo 1 E rimase per tutto il capitolo 1 Poi non tornò mai più Con la distruzione della mappa Con l'evento del buco nero Poi non si vede più Tranne Ricomparire Ogni tanto Durante il capitolo 2 Si era parlato di un suo ritorno Al posto di Brughiere e Brumose Ma poi non è mai più tornata Ma Una volta è stata Cioè l'abbiamo rivista Non proprio in tea Cioè abbiamo visto praticamente un edificio Nella nave madre Se vi ricordate Quando nella season 7 Si poteva entrare nella nave madre C'era il Un edificio di Aprodo Avventurato Però la città Vera e propria Non l'abbiamo dal capitolo 1 E quindi ragazzi Tornerà E questo è per farvi capire Che è tema anche giapponese Ok? Ma non solo questo Comunque tornerà Ma con una nuova versione Sarà modificata Non sarà identica Ci sta Cioè anche perché Una roba Questa roba qui Di rimettere vecchie città Si Ma devono essere modificate Cioè identiche Dopo un po' ti stanchi Perché Uno che non l'ha mai giocata Ok Ma la maggior parte Delle persone Hanno giocato Tutte le città E capite che lì È un po' più Noioso Poi rigiocarla Identica Ma non solo Arriverà anche una nuova Neo Tokyo Ok? Quindi Tema neopinnacoli Ve la ricordate In season 9 Del capitolo 1 Ma A tema Giapponese Ecco perché prima Vi ho fatto vedere Quelle schermate di caricamento Ora Non è che l'Epic Aveva previsto tutto L'Epic Games Sicuramente Pensa ai temi Delle stagioni In tempo Prima Però Deve poi pensare A come Fare la season E a quando farla Ok? Cioè nel senso Non è che Nel 2021 A giugno del 2021 Quando hanno pubblicato Quelle schermate di caricamento Sapevano Che Il 9 marzo Del 2023 Ci sarebbe stata La stagione A tema futuro Non lo sapevano E non si poteva sapere Ovviamente Ma Comunque Ci pensavano già Questo comunque Ci fa capire Che Forent Lavora Le season Molto tempo Prima Di quanto Noi pensiamo O comunque Almeno ci pensa Prima Porca vacca Questo che è eliminato Quindi avremo Queste due nuove città Io spero ragazzi Già che sappiamo Che ci saranno Queste due nuove città Vuol dire che Per la prossima stagione Hanno capito Che devono fare Dei grossi cambiamenti Perché Tre mesi e mezzo In sta mappa Io sinceramente Mi sono già Un po' Annoiato Ma non sono solo Queste le Novità Ci saranno Appunto Come vi avevo fatto Vedere prima Nella schermata Di caricamento Delle moto Futuristiche Quindi saranno Moto Quasi chiamano Moto futuristiche Prima vi ho detto Moto volanti Perché effettivamente Nella schermata Di caricamento Le moto volavano Ora non so Come saranno Non riesco a immaginarmele Perché Moto futuristiche O semplicemente Sono moto Che non hanno le ruote Quindi Sono tipo le moto volanti Tipo sapete Non so se avete giocato Mai a GTA online Però Su GTA online Ci sono le moto volanti Perché ha giocato Ovviamente Sai di cosa sto parlando Io tra l'altro Ce l'ho anche La moto volante E tanta roba Non credo che sia Una roba del genere Ovvero Per chi non Avesse mai giocato A GTA O comunque Per chi non L'avesse mai provata Non credo che sia Una roba Che Su GTA Praticamente Tu prendi la moto Puoi volare In alto Puoi andare dove vuoi Puoi sparare i missili Puoi sparare Credo di no Anzi lo spero Perché altrimenti Sarebbe una roba Che tipo Due giorni dopo Verrebbe Tolta da Fortnite Probabilmente Spero di no Credo Anzi Allora Non lo so come la vorrei Però credo Che la faranno Tipo la moto C'è una moto Classica Sapete le moto Che sono arrivate in questa season Però semplicemente Non avranno le ruote Cioè sarà tipo futuristica Ok Che vola Ok Volante Ma non puoi tipo Volare in cielo E stare in cielo Per tutto il tempo Che vuoi Altrimenti La gente rimarrebbe in aria Quindi no Non credo proprio Non credo che Che cada così in basso Altrimenti Che cade così in basso Altrimenti sarebbe un bel problema Uno sarebbe in moto Tutto il tempo E io da sotto Devo spararli Non credo proprio Vedremo Quindi secondo me Saranno semplicemente Futuristiche Ma non è che cambierà Il modo di usare le moto Sarà lo stesso Semplicemente Voleranno al posto Di avere le ruote Arriverà Un nuovo oggetto Ovvero la katana Credo che Sia tipo Cioè alcuni magari Sono un po' Non lo so Non se l'aspettavano Magari Però Diciamo che Alla fine Se ci pensate È tipo Il martello Di questa stagione Ok Avete presente Che è un oggetto Cioè voi ve lo immaginavate Una roba del genere Il martello Un martello su fortnite Io non me lo sarei mai E dico mai Immaginato E invece Poi alla fine Serve più che altro Per il movement Perché alla fine Chi è che usa Il martello Per far danno alla gente Sì quando ti capita Che ce l'hai proprio davanti Allora forse Che magari è fermo Ma Non è che lo usi molto Si usa più per movement Infatti penso che Questa katana Non solo farà danno Se tipo tu Colpisci un avversario Ma credo anche Che abbia Un secondo utilizzo Credo Che proprio Che magari Non vi dico Che magari sarà anche Questo come Un movement Anche se Mai dire mai Eh Anzi sapete Mi è venuto adesso in mente Sapete che Tempo fa Ne avevamo già parlato Del Del possibile Cavolo Non dovevo scendere Vabbè Della possibile Della possibile Meccanica Dell'arrampicata Sapete No che Cioè l'arrampicata C'è già in realtà Però Del Una meccanica Dove ti aggrappi ai muri Ok Non mi viene adesso in mente Il nome preciso Comunque Vi stavo dicendo Da tempo fa Si era Stata svelata Credo qualche season fa Questa meccanica Che poteva Arrivare Poi non è mai arrivata Ovvero che tipo Facevi il parkour Tra i muri Magari con la katana Tipo ti puoi Aggrappare da qualche parte Non lo so Vedremo ovviamente E quindi Sarà una nuova arma Stile martello Ci saranno Delle nuove pistole E dei nuovi Fucili a pompa Ma Per quanto riguarda I fucili a pompa Ragazzi Sinceramente Boh Nel senso Mi van bene anche questi Anzi Uno nuovo Ci sto anche Io sono molto curioso Ragazzi Di vedere Il loot Della prossima stagione Cioè voglio vedere Che armi rimarranno Che armi mettono Se è anche a tema futuristico Perché ragazzi Se la season È tema futuristico Giapponese Allora I leaker L'han detto in questo modo Ovviamente Giapponese Non Forrente Non fa una season A tema giapponese E I leaker Te la dicono così Per farti capire Che comunque Ci sarà un qualcosa Di tema giapponese Infatti La katana Ci sarà appunto La collab Tante collab Che arriveranno Comunque in futuro Anche Ma nella prossima stagione Nel pass battaglia Ci sarà la skin Di attacco Titan Quindi Comunque Sì È presente Il Giappone Però non è che È il punto principale Della season Il punto principale Il tema principale È futuristico Quindi sono curioso Di vedere Che armi Ci saranno Sono molto curioso Le pistole Ci stanno Perché alla fine La pistola che c'è In questa season È molto forte Vedremo che cosa faranno Ci sarà ragazzi Un nuovo sistema Di scivolata Ma non Per Mentre corriamo Che scivoli No 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 Siccome nella mappa Ci saranno Dei tubi neon Avete presente In season 9 Del capitolo 1 C'erano Condotti d'aria Tra le città Quelle futuristiche Dei condotti d'aria Dove tu volavi Invece no Stavolta ci saranno Ma non volerai A quanto pare Ci sarà tipo Credo Me lo immagino così Visto che qua Dice che ci sarà Un nuovo modo Di scivolare E se scivoli Andrai più veloce Quindi io credo Che magari Ci saranno Questi tubi Che hanno Già di sé Se tu entri Sarai più veloce Quindi magari O fai lo scatto O fai la scivolata Vai più veloce Non lo so Vedremo Comunque ragazzi Sono tutte ipotesi Quelli che vi dico Io vi leggo Quello che ci sarà E poi Dico un po' Quello che penso Secondo me ragazzi Sarà Cioè ci può stare E tra l'altro Non è la prima volta Che Fornite Prenda Cioè Che prende un tema Di una season passata Infatti Il tema futuristico C'è stato proprio Per la prima volta In stagione 9 Del capitolo 1 Sì potete dirmi Anche in stagione 7 Con gli alieni Ma non era futuristico Cioè Era tema alieno Non era futuristico Non c'ho niente a che fare E sono curioso Spero Visto che qua c'è proprio Un vero tema Perché alla fine Di sinistra season C'è il tema fantasy Però Sinceramente Non è che Sì Togliendo la mappa Però per il resto Non è che Per skin E armi Sinceramente Non è che Mi sembra Proprio tema fantasy Però Tipo Cioè Anzi Il tema è Medioevale fantasy Le armi E le skin Non mi fanno Pensare a quello Vedremo Allora Sappiamo già Che delle skin Sono anche Tipo animali Semiumani Quindi Non lo so Vedremo Spero che comunque Caratterizzino bene Le skin Di pass battaglia Spero che la mappa Sia ben Fatta Quindi Cioè Non che La zona futuristica Sia Al centro E il resto Della mappa È uguale a prima Io spero che Tanti Cioè Spero che ci sia Un grande Cambiamento Nella mappa E poi Tanti piccoli Cambiamenti In giro Per tutta la mappa Spero questo Ovviamente Poi spero che le armi Aviano un tema Specifico Fatemi sapere Che cosa ne pensate Qui sotto nei commenti Ah Poi va bene Abbiamo già parlato Delle skin In un video precedente Quindi non ne ho parlato Oggi Ma sappiamo già Tante skin E tra l'altro Ci sarà Alla deriva 2.0 Chiamiamolo così Perché ci sarà Un nuovo Alla deriva Sarà tipo Un po' Tema Giapponese Tipo la crew Di gennaio Se non sbaglio Quel samurai Sembra un po' Quello Però non è così È un drift 2.0 Fatemi sapere Che cosa ne pensate Vi piace questo tema Vi piacciono tutte le robe Che arriveranno E non sono tutto Ovviamente Ce ne saranno altre Nel corso dei giorni Sapremo altre novità Lo spero E se È così Ne parleremo Vi ricordo che L'8 marzo Saremo in live Per giocare L'ultima giornata Qui In questa stagione Quindi vi aspetto Vi ricordo anche Che non ci sarà Un evento finale In questa season Quindi non vi fate ingannare Da chi dice che c'è Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate like Condividete il video Con tutti i vostri amici E noi ci becchiamo In un prossimo video Bella Ciao a tutti i nostri amici Ciao a tutti i nostri amici Ciao a tutti i nostri amici